Dylan Dog è morto. Lunga vita a Dylan Dog. Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Sto per parlare del numero 400 di Dylan Dog, e ora l'Apocalisse, che non è ancora uscito in edicola, uscirà non a fine mese, quindi non a fine novembre, ma a fine anno, a fine dicembre, tra due mesi, diciamo, un mese e mezzo, che dir si voglia. Ma è stato comunque presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2019 in formato cartonato, è stato scritto da Roberto Ricchioni e disegnato da Corrado Roy e Angelo Stano. Ma prima di arrivare al numero 400 vorrei finire quello che non ho detto sul numero 399 nell'altro video, perché una meteora mi è cascata in testa e mi ha ucciso, o forse no, forse ha disgregato il multiverso, chi lo sa. Parliamo del numero 399. Due cosette e poi iniziamo. Dylan Dog sposa Graucio. Io non ho voluto fare spoiler nell'altro video, ma è su tutte le testate giornalistiche, è su tutti i giornali, come se Graucio avesse preso il maggiolino di Dylan Dog e fosse andato a sbattere su un'edicola. È su tutti i giornali a questo livello. Perché? Perché Dylan Dog sposa Graucio. Ovviamente in questa, che la copertina variant uscita a Lucca Comics & Games non c'era scritto, ma sulla copertina che uscirà in un'edicola che vi metto qua c'è proprio una bella scena sulla navata di una chiesa con Dylan Dog sposo, o sposo che dir si voglia, e Graucio sposa coi baffi. Perché la sposa può avere i baffi, la sposa può avere quello che vuole. Se non avete ancora letto il 399 e non volete sapere nulla, vi dico di schippare il video, altrimenti vado avanti. Conto sempre. 3, 2, 1... Ovviamente è un matrimonio vero e proprio, come ha detto Roberto Recchioni. Ovviamente c'è una provocazione, la provocazione sta proprio nel mettere il matrimonio nella copertina da edicola di Dylan Dog, ma ciò nonostante è un matrimonio vero. E tutti subito a dire, senza neanche aver letto Dylan Dog, eh ma Dylan Dog omosessuale proprio non lo leggerò mai, ah Dylan Dog gay, Dylan Dog frocio. Ma che... ma state zitti, ignoranti di merda. State zitti che quando parlate esce solo merda dalla vostra bocca collegata al vostro cervello pieno di merda. Numero 1. Anche se fosse... Nel mondo del fumetto ci sono continue increspazioni di un fiume che poi torna sulla sua corrente. Dylan potrebbe diventare omosessuale per qualunque ragione e poi tornare etero. 2. Sì, è strano perché Dylan è sempre stato un amante del gentil sesso e adesso va a sposare un uomo, ok. E quindi? Dove sta il problema? 3. S'è parlato che Dylan diventa omosessuale? No, assolutamente no. S'è parlato che nel numero 399 ci sarà un matrimonio, ci sarà un matrimonio di amore tra Dylan Dog e la sua anima gemella. Che cacchio volete che sia l'anima gemella di Dylan Dog che ogni mese se ne tromba una diversa? Ma vi pare omosessuale una persona che si tromba una donna ogni mese? A meno che non sia un overcompensating, non lo so. Ma ovviamente Dylan Dog resta eterosessuale. Ma Dylan Dog è sempre stato dalla parte degli oppressi, dei diversi, dei mostri. Non me ne vogliate, popolo gay, non vi sto dando assolutamente. Ma è stato sempre dalla parte di quelli che sono visti come mostri, dalla società per bene, si è sempre messo in mezzo con la sua pistola, anche a difenderli. Perché no? Ed è stato persino Roberto Recchioni in persona una volta a dire, a volte il mostro non è per forza la società pervenista, a volte il mostro è proprio il mostro. Quindi non è che per forza Dylan Dog si schiera con i mostri, se sono realmente mostri, ma si schiera con i mostri quando in realtà sono degli oppressi. Sono mostri solo perché sono visti come tali, ma in realtà sono delle persone, sono degli umani. E era palese fin da subito che una persona come Dylan Dog, animalista, vegetariana, fin dal 1986 contro i bulli, pronto anche a sferrare un cazzotto, sì, ma contro i bulli, che si schierasse anche dalla parte, non della comunità omosessuale, ma comunque che non avesse problemi a difendere il diritto, diciamo, di una persona gay a sposarsi da una persona che la opprime. Perché, come ho letto da qualche parte, non so chi l'ha detto, sicuramente è una persona più importante di me, tra chi opprime e l'oppresso, devi per forza prendere le parti dell'oppresso. Perché se non prendi le parti di nessuno, stai automaticamente dalla parte dell'oppressore. E Dylan Dog non è mai stato dalla parte dell'oppressore, quindi è ovvio che Dylan Dog non abbia nessun problema al fatto che possano esistere dei matrimoni gay. Non dovrebbe essere un problema, perché dovrebbe esserlo? Fatto sta che molta gente, senza aver letto il numero, senza, perché giustamente non è ancora uscito, avendo visto solo la copertina, avendo visto che la sposa è Graucio, è Graucio che è comunque anche la spalla comica di Dylan Dog, cioè non è un altro uomo, non è che ha sposato John Ghost o Tex Wheeler, ha sposato Graucio, quindi già di per sé questa cosa dovrebbe far sorridere. E invece no, c'è sempre l'ignorante, c'è sempre il boomer, perché adesso va tanto di moda a dire questa parola boomer, anche se in realtà c'è gente che è alla mia età, io ho 34 anni, o è anche più giovane di me, ed è comunque un boomer nel cervello. Quindi non è una questione di età ragazzi, ragazzi millennials, se mi state guardando, non è per forza una questione di essere boomer, a volte è proprio una questione di essere tarati nel cervello, di essere dei boomer cerebrali, perché probabilmente si è cresciuti in un ambiente a bolla, dove ci si è fermati all'era del boom economico probabilmente. E queste persone hanno criticato subito questa cosa, ah, no, ti l'ho andato a sposare un uomo, allora è emosessuale, non è giusto perché il matrimonio è fatto dal uomo e dalla donna, non dal genitore uno, dal genitore due, io sono Giorgio, sono una donna, sono cristiana, io sono genitore uno, sono genitore due. Salutiamo Meloni-chan. No, è un matrimonio comunque simbolico, perché appunto Dylan Dogg cerca di sposarsi la squinze di turno, come ho detto nell'altro video, non ci riesce perché la squinze di turno non è tanto squinze da sposare il primo venuto e se ne va, e sposa perché deve sposare qualcuno, perché John Ghost gli ha detto ci deve essere un matrimonio per salvare, per mettere almeno una toppa a questa meteora che arriva, e allora Dylan Dogg e Groucho si sposano, non so quanta autorità abbia John Ghost nello sposare qualcuno a Londra, ma tutti possono essere nominati ministri della chiesa protestante, come già Franz ci aveva mostrato, quindi perché no John Ghost potrebbe essere benissimo un ministro per poter ufficiare un matrimonio, quindi potrebbe esserci un matrimonio reale, legale, quindi magari Groucho potrebbe avere una pensione di reversibilità un domani almeno, però purtroppo, però purtroppo in questo numero, e questo è un grosso spoiler, ma se siete arrivati fino a qui vuol dire che siete pronti, purtroppo in questo numero, come anche nel numero precedente e nel numero prossimo, Groucho muore, Groucho muore, subito dopo aver sposato Dylan, lunga vita a Groucho, quindi non lunga vita a Dylan Dogg, lunga vita a Groucho, passiamo al numero 400, allora io questo video l'avevo già fatto, ma non l'ho pubblicato perché a una prima lettura, sono sincero, il numero 400 mi ha un po' spiazzato, quindi non mi è piaciuto, avendomi spiazzato, ma forse perché mi ero fatto io un film mentale di come il numero 400 potesse parlare ancora della meteora, e allo stesso tempo poteva far partire un nuovo ciclo di Dylan Dogg, invece non c'è nulla di tutto questo, la meteora si conclude con la collisione nel 399 e un nuovo ciclo di Dylan Dogg comincerà con il 401, e quindi di cosa si parla nel 400? Il 400 è un numero commemorativo, si sancisce un punto, si sancisce un giro di boa, dal quale Tiziano Sclavi pone il suo personaggio, la sua creatura, il suo figlioccio che è Dylan Dogg, nelle mani dei posteri, nella figura in questo caso di Roberto Recchioni che è l'attuale curatore di Dylan Dogg, ma diciamo che Tiziano Sclavi si toglie questa sua figura enorme, ingombrante di autore di Dylan Dogg, che molti fan, molti Dylan Dogg fag hanno cristallizzato nel tempo, idolatrando i primi 100 numeri, come tutto ciò che fosse fuori dalle mani di Tiziano Sclavi fosse merda, facendo in modo che Dylan Dogg appunto non potesse evolversi davvero come dovrebbe fare nel 2019, perché si rischia sempre di fare scontento qualcuno e quindi cosa succede? Che quindi Dylan Dogg è sempre, ultimamente, ha sempre cercato di tenere i piedi in due scarpe, cioè nella scarpa dei fedelissimi, dei primi 100 di Dylan Dogg, di Tiziano Sclavi, perché se no è tutto merda se non è scritto come quei numeri là, che sono stati fatti tra gli anni 80 e gli anni 90, e un altro piede nella scarpa del cerchiamo comunque di essere provocatori, perché Dylan Dogg è sempre stato al passo coi tempi, è sempre stato sovversivo, è sempre stato provocatorio nel suo pacifismo, e questa cosa però non è possibile, non si può tenere un piede negli anni 80 e un piede nel 2019, o meglio si potrebbe se si avesse la testa di Dylan Dogg, ma dal momento che chi legge non ha la testa di Dylan Dogg non riesce a vedere questa cosa, e quindi cosa si è deciso di fare? di dare un taglionetto, anche in senso letterale ma poi ci arriviamo, a tutto quello che è stato Dylan Dogg finora, per poi iniziare un nuovo ciclo, un nuovo ciclo che sarà molto più nelle mani di Roberto Orecchioni rispetto ad adesso, Roberto Orecchioni autore, non curatore, Roberto Orecchioni sceneggiatore. E questo lo vedremo perché ci sarà una miniserie di sei numeri, dal 401 al 406, scritta da Roberto Orecchioni, che a detta sua si farà odiare più del solito per questa miniserie, perché appunto presumo servirà appunto a rimescolare le carte in tavola per dare un nuovo ciclo al nuovo Dylan Dogg. Però prima di parlare del nuovo Dylan Dogg che uscirà dal 401, che non ho ancora letto, parliamo di quello che ho letto. Questo numero inizialmente non l'avevo apprezzato, non l'avevo capito, non lo so, perché appunto mi aspettavo qualcos'altro, ma dal momento che quel qualcos'altro che mi aspettavo mi è scivolato via, l'ho riletto, l'ho riletto per caso, ce l'avevo sul divano, ho detto, ma sì, rileggiamolo un attimo che ci devo fare, che devo pubblicare il video che avevo già fatto. E quando l'ho riletto ho detto, cavoli, meno male che non l'ho pubblicato il video, perché c'è tanto da dire che non avevo detto. Innanzitutto il numero è pieno di citazioni, anche se non pieno come queste citazioni, magari se avanzo un po' di tempo parliamo anche delle citazioni del 399, è pieno comunque di sottili citazioni a film, a altre opere, per esempio parte con This is the end, la canzone che si sente quasi sempre nei film di guerra, che si sente in Apocalypse Now, e infatti il titolo è E ora l'Apocalisse, Apocalypse Now, quindi arrivateci, quindi si parte con la canzone di Apocalypse Now, il titolo è E ora l'Apocalisse, se si vede semplicemente nella prima tavola che la meteora impatta proprio su Londra, però non distruggendo il mondo. Perché non distruggendo il mondo? Perché il matrimonio di Dylan Dogg in qualche modo non ha permesso che la realtà si salvasse, che non venisse tutto distrutto, ma che le realtà si salvassero. Però comunque c'è stato qualcosa che è andato storto, perché sennò non sarebbe Dylan Dogg, e quel qualcosa che è andato storto è che Dylan Dogg non si ricorda chi è, non si ricorda come si chiama, Londra è comunque distrutta, e la realtà è spaccata in tante piccole realtà. Quindi questo marinaio senza nome che è Dylan Dogg si mette in viaggio su un galeone, che però nonostante sia chiamato il galeone senza nome, ricorda molto l'Amerigo Vespucci, ve la faccio vedere magari in un'altra scena, ecco. Che, allora, io da amante dell'Amerigo Vespucci ne sono stato molto felice che abbia questo aspetto, però appunto non è il solito galeone di Dylan Dogg, ma, ma, forse io parlo perché sto leggendo, ho letto il numero in bianco e nero, però essendo un numero, un centenario di Dylan Dogg, come da tradizione, quando uscirà a fine anno in edicola, sarà a colori, vi ricordo. Quindi prendetelo, se questo l'avete preso, se non l'avete ancora preso, compratelo, perché è bellissimo in bianco e nero, ragazzi, è fantastico, è disegnato da Angelo Stano, ma poi compratelo anche in edicola, perché ho visto qualche anteprima a colori, ed è bello anche a colori. Solitamente quello che è fatto per il bianco e nero, non si apprezza quando è colorato successivamente, e viceversa, come una cosa fatta a colori, non si apprezza in bianco e nero. Qua probabilmente l'hanno studiata proprio perché fosse sia in bianco e nero che a colori, infatti è bello in tutte le salse. Appunto, questo Dylan Dogg si mette a navigare con il suo mozzo, che è Graucio, che nonostante fosse morto nel 399, la meteora che ha spaccato le realtà, ha permesso che comunque un Graucio esistesse, che è questo mozzo, che anche lui non si ricorda nulla, quindi la speranza è che magari Graucio prima o poi tornerà, ma non credo subito, poi ci arriviamo sul perché. Navigano, navigano, fanno vedere che hanno diverse avventure, ma anche se le avventure che hanno in queste bellissime tavole, in queste bellissime splash page, non sono il fulcro del numero, il fulcro del numero è commemorare Dylan Dogg, commemorare, sì, le sue avventure, ma commemorare anche il fatto che è un'opera di Tiziano Sclavi, infatti lui nel suo navigare prima o poi arriverà a un'isola dove incontrerà Tiziano Sclavi. Piccola parentesi, in questo numero si esce dalla storia, si esce dalla quarta parete e vediamo il fumetto mentre è disegnato da Stano, dall'alter ego cartaceo di Angelo Stano, alter ego cartaceo che abbiamo già visto nel numero Morgana, il numero 25, lo so a memoria ma ho voluto controllare, il 25 di Dylan Dogg, dove a un certo punto, a un certo punto ecco, c'è il disegnatore, quindi si esce dalla narrazione e il disegnatore che è Stano, in realtà si capisce come Morgana sia il frutto della mente di questo disegnatore, questo disegnatore è tornato in questo numero e guarda a caso, a un certo punto si rompe le palle di disegnare questa avventura e disegna una donna nuda, una donna nuda grande come un'isola, tant'è che Dylan e Graucio ci approdano su quest'isola. Questa donna nuda, enorme, neanche a farlo apposta, ricorda molto Morgana. Quindi dopo questo omaggio al numero 25, Morgana, dove c'è uno dei tanti amori di Dylan Dogg, che poi si rivela essere in realtà la madre di Dylan Dogg, perché Dylan Dogg si sa che ha tutto un passato intriso di memoria persa, finché non approda, in qualche modo appunto a quest'isola, quest'isola dove c'è il relitto di quello che è il suo maggiolone e di una cabina del telefono londinese dove risponde a una telefonata e dall'altro capo c'è Tiziano Sclavi che gli dice che non si trova in quest'isola ma che deve continuare a cercare. Dylan Dogg continua imperterrito a navigare con il suo assistente, incontra vari mostri che possono essere visti come i 400 numeri che hanno portato Dylan Dogg ad avere tutte queste avventure. Infatti in questo navigare ci sono mostri, ci sono donne, perché appunto il disegnatore vuole disegnare le donne, e che racchiudono un po' tutto il percorso narrativo di Dylan Dogg, no? Di Dylan Dogg e Graucio. finché finalmente non approdano innanzitutto a un mare in secca che io nella mia testa, io questo me lo immaginavo proprio bianco, come è disegnato, bianco arido secco. Invece ho dato una sbirciata alle tavole a colori e molto probabilmente sarà una specie di rossastro, ma ciò non toglie che possa essere comunque una terra secca. Una terra secca dove galleggiano delle isole e in una di queste isole con una casa all'interno c'è un Dylan Dogg, quindi presumo che anche nelle altre ci siano altri Dylan Dogg. Questo Dylan Dogg ha una faccia tutta viscida, tutta come se fosse un mezzo tentacolo, perché si parla appunto di un'avventura marittima, questo ricorda molto uno dei dei non morti di Davy Jones nella trilogia dei Pirati dei Caraibi, per esempio. Poi Grouch comunque lo ammazza perché questo Dylan Dogg è ostile e approdano sull'isola dove c'è Tiziano Sclavi. Passano anche da Mater Morbi perché è un'opera di Recchioni che ha omaggiato una sua creatura che è Mater Morbi. Nell'intervista tra l'altro che c'è alla fine, ci sono due interviste, una a Roberto Recchioni e una ad Angelo Stano. Roberto Recchioni dice come avrebbe voluto che il numero 400 concludesse la trilogia di Mater Morbi, Mater Dolorosa e qua ci doveva essere un'altra Mater, probabilmente Mater Misteriosa, ma ha preferito dare uno spazio minimo alla sua creatura Mater Morbi e dedicarsi di più alla commemorazione di Dylan Dogg. ma nonostante il cameo di Mater Morbi sia minimo, è molto bello quello che dice. Dice conosco la persona che stai cercando. Mater Morbi conosce Tiziano Sclavi, quindi la personificazione della sofferenza conosce molto bene Tiziano Sclavi e Tiziano Sclavi e la sofferenza hanno avuto un figlio, hanno dato alla luce un figlio. Dylan Dogg è figlio di Tiziano Sclavi ed è la sofferenza che Tiziano Sclavi ha incontrato nella sua vita, cioè la sofferenza di un artista crea il suo prodotto, la sofferenza, diciamo, di Tiziano Sclavi ha creato la sua arte, più famosa, perché non ha fatto solo Dylan Dogg, che è Dylan Dogg. E mi è piaciuta molto questa cosa, non so se appunto è frutto totale di Roberto Recchioni o se Roberto Recchioni ha detto scusa posso dire questa cosa, però mi è piaciuto molto. Ve lo dico magari, ve lo leggo passo per passo. Lo conosco bene, siamo stati amanti per tanto tempo, io ho la malattia, lui il malato. Ovviamente prendo le parole di Mater Morbi come puro metalinguaggio, non prendiatela letteralmente la cosa, io penso che comunque Dylan Dogg sia nato da Dylan Senior e da Morgana e che poi è diventato Xabarassi, eccetera, eccetera, eccetera. Questa dovete prenderla come un'allegoria, come la Bibbia per esempio. Quando arriva da Tiziano Sclavi è grosso come Tiziano Ferro prima di diventare famoso. Scusa Tiziano Ferro, ti ammiro tanto. Allora, eccolo qua. è stato volutamente disegnato come King Ping questo Tiziano Sclavi, non perché Tiziano Sclavi sia realmente grasso, questo è il suo peso, la sua imponenza narrativa, la sua figura autoriale è enorme, tant'è che appunto ha in questi anni, senza volerlo, soffocato Dylan Dogg come ho detto all'inizio del video. dice Dylan Dogg Dylan Dogg tu non sei nessuno, tu sei un garzone, e io invece ho visto l'orrore e qua c'è il ritorno a Apocalypse Now, infatti c'è una giungla, c'è una giungla, lui fa un discorso oltre a citare anche Blade Runner, cita comunque Apocalypse Now, Dylan stesso che è stato legato da Tiziano, dal Tiz, è qua legato a Torso Nudo, che dice l'orrore, l'orrore, che era la battuta famosa, credo di Marlon Brando in Apocalypse Now, e poi succede davvero l'orrore, l'orrore di un lettore, perché è tre numeri che succede la stessa cosa, e uno potrebbe iniziare a pensare che questa cosa che succede, magari succede davvero, ovvero il nostro caro Tiziano Sclavi dice questo era il mio ultimo colpo di scena, ora tocca a te, parlando a Dylan Dogg, ma sta parlando a Roberto Orecchioni in realtà, l'ultimo colpo di scena di Tiziano Sclavi è stato decapitare Graucio Marx, decapitarlo e lanciargli, e lanciare la testa di fronte a Dylan Dogg. Questo ultimo atto di orrore dell'autore convince Dylan a fare quello che già aveva fatto nella storia nel 399, nel 399 John Ghost ha spinto Dylan a ucciderlo in modo che si spezzasse un po' l'anima di Dylan Dogg e salvasse, diciamo, il mondo dall'impatto con la meteora. Qua Tiziano Sclavi fa la stessa cosa, fa uccidere Graucio, anzi uccide Graucio in prima persona, per forzare la mano a Dylan e farsi uccidere. C'è anche un piccolo complesso di Edipo, ma si sa che Dylan Dogg ha i complessi di Edipo dato che da sempre odia suo padre, da sempre ama sua madre anche in modo morboso e qui di nuovo ammazza suo padre. Il suo padre cartaceo, il suo padre letterario, ammazza, squarta, come solo in un fumetto horror può succedere, ammazza suo padre, gli taglia la testa come lui aveva tagliato la testa a Graucio e dice di nuovo questa è la fine, come lo dice all'inizio. Dice questa è la fine e poi in realtà dice no, in realtà non è la fine, questo è l'inizio. Perché? Perché partirà un nuovo ciclo, partirà un nuovo Dylan Dogg. L'uccisione da parte di Dylan Dogg, l'uccisione di Tiziano Sclavi da parte di Dylan Dogg, pone la conclusione di questa terra frammentata, di questo multiverso frammentato e crea un nuovo universo. lo si capisce dal fatto che lui lancia la testa in aria di Tiziano Sclavi che esplode come in un Big Bang generando milioni di stelle e da questo milione di stelle ripartono le storie. Infatti vediamo subito di nuovo Xabaraz, vediamo Morgana, vediamo Dylan Dogg, vediamo il Galeone che ci ha condotto fino a qui per tutto il numero. Finiscono i disegni di Stano, ricominciano i disegni di Corrado Roy e si vede che si ritorna a Londra, presumo eh, io presumo Londra potrebbe essere qualunque altro posto, si torna a Londra, a Craven Road magari o perché no, vediamo solo una porta, si vede che qualcuno sta mettendo l'insegna Dylan Dogg, indagatore dell'incubo su questa porta, è Dylan Dogg ragazzi, non è Francesco della Morte, ok? Perché vi dico questo? Perché accanto a Dylan Dogg, un Dylan Dogg molto barbuto, come era arrivato barbuto a fine numero perché aveva navigato per mesi e mesi, forse anni, questo Dylan Dogg barbuto non ha a fianco il suo solito assistente, non ha a fianco Graucio, ha a fianco Gnaghi. Gnaghi è l'assistente di Francesco della Morte nel film della Morte dell'Amore. Nonostante la maggior parte di voi pensa che Della Morte dell'Amore sia il vero film di Dylan Dogg, anche se non si chiama Dylan Dogg, in realtà Della Morte dell'Amore parla, è la storia cinematografica di un romanzo che Tiziano Sclavi aveva scritto credo nell'82 in cui appunto è protagonista Francesco della Morte che è un guardiano di un cimitero dove si risvegliano i ritornanti appunto e lui li uccide e il suo assistente non è Graucio ma è Gnaghi. Ora, ciò nonostante Francesco della Morte sia un proto Dylan Dogg, non è assolutamente Dylan Dogg, perché a un certo punto del film quantomeno, Francesco della Morte non distingue più la Morte dalla Non-Morte cioè scusate sì non distingue più la vita dalla Morte perché appunto i morti ritornano in vita e quindi nella sua testa i morti e i vivi sono la stessa cosa di conseguenza diciamo che perde un po' la brocca e inizia ad ammazzare i vivi con lo stesso nonchalance con cui ammazza i morti questa netta questa cosa non c'è in Dylan Dogg Dylan Dogg ha sempre avuto una netta distinzione tra la vita tra la salvaguardia della vita e la morte di conseguenza Dylan Dogg non è in alcun modo Francesco della Morte tant'è che in un numero il nero della paura di Dylan Dogg che ok è un numero fuori continuity Dylan Dogg e Francesco della Morte si incontrano sono due persone distinte brindano alla vita e uno brinda alla morte perché appunto dice che sono la stessa cosa perché Francesco della Morte non distingue la vita dalla morte in questo numero si nota come sono diversi personaggi ma sono amici né in questo numero parlano di come si siano già incontrati ora io purtroppo mi piacerebbe sapere se si sono incontrati in un numero in continuity ma finora non l'ho trovato se per caso ne sapete di più scrivetemelo vi consiglio se invece ne sapete di meno di recuperare questo questo è il numero 19 della gazzetta dello sport Dylan Dog il nero della paura contiene tre storie la storia di cui a cui mi riferisco è stelle cadenti poi magari vi metto il link in descrizione questo spiega anche la mia camicia bianca di oggi diversamente dalle altre volte in cui parlo di Dylan Dog e ho la camicia rossa in questo numero ho voluto mettere la camicia bianca proprio perché Dylan Dog che partirà con il nuovo corso con il numero 401 che uscirà a fine gennaio potrebbe essere un nuovo anzi sarà sicuramente un nuovo Dylan Dog e potrebbe essere un mix chi lo sa tra il Dylan Dog classico e Francesco della morte oppure sarà il solito caro vecchio Dylan Dog con un po' di barba ma sarà accompagnato da Gnaghi sarà accompagnato da Gnaghi perché Graucio è morto definitivamente oppure in questa mini serie di sei numeri non vedremo Graucio ma poi tornerà dal 407 oppure in questi sei numeri si cercherà di far tornare Graucio ma non ci si riuscirà voi cosa ne pensate io credo che Graucio è un personaggio troppo importante per smettere di utilizzarlo perché sennò davvero i lettori potrebbero andare in via Bonarroti a Milano alla sede della Bonelli con i forconi però probabilmente diremo addio a Graucio per un po' per un po' di numeri come diremo addio al classico Dylan Dogg per un po' di numeri se non per sempre anche se secondo me Dylan Dogg finché tiene quei due o tre capisaldi che formano la sua persona fin tanto che difende il mostro l'oppresso dagli oppressori non si snaturerà mai e Graucio finché prenderà sempre tutto sul ridere non si snaturerà mai l'unica cosa che potremmo guadagnare da questa morte di Graucio e dal suo chissà futuro ritorno prima o poi è che magari scopriremo chi era davvero Graucio prima di impersonificare l'attore Graucio Marx questo sarebbe interessante da scoprire però magari i tempi non sono ancora maturi se vi è piaciuto il video mettete un bel like o mi piace che dir si voglia commentate qui sotto con qualunque cosa che volete con quello che vi piace di più di D-Landog commentate se siete stati anche voi a Luca Comics fatemi sapere se volete che parli di qualche altro numero di D-Landog lo faccio molto volentieri anche di quelli vecchi non c'è problema condividete il video con tutte le persone che vi stanno simpatiche o antipatiche e se non l'avete ancora fatto e io so che non l'avete ancora fatto perché guardo le analisi iscrivetevi al canale iscrivetevi 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 perché un sacco di gente proporzionalmente alle mie views che guarda il mio canale non è iscritta quindi mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo nel prossimo video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e gna iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale grazie a tutti